Ciao amici, adesso in questa classe andiamo a vedere l'imperativo, il modo imperativo con lei. Facciamo un brevissimo ripasto del tu, noi, voi, che è molto importante, e per poi passare all'imperativo con lei. Abbiamo visto che quando utilizziamo il tu, are e reire, il modo imperativo è sempre la terminazione aii. Quindi quando usiamo il tu è parla, o il verbo vedere, vedi, sentire, senti. La forma negativa ricordiamo che è non più l'infinito del verbo, quindi non parlare, non vedere, o sentire, non sentire. Quando noi utilizziamo il noi è sempre iamo, ad esempio parliamo, vediamo, sentiamo. La forma negativa solo aggreghiamo non, quindi parliamo, non parliamo, vediamo, non vediamo, sentiamo, non sentiamo. Quando noi utilizziamo il voi, quindi ustedes, voi, la terminazione è come esattamente il noi e il voi, come il presente indicativo, quindi il voi è ate, ete, ite. Parlate, vedete, sentite. La forma negativa, come il noi, non solamente aggreghiamo il non, è molto semplice, quindi parlate, non parlate, vedete, non vedete, sentite, per favore sentite, o per favore non sentite. Questo è tu, noi, voi. Andiamo a vedere adesso l'imperativo con il lei, questo lei inteso come osted, quindi professore, dottore, architetto, qui cambia la terminazione, are e reire cambia in i-a-a, i-a-a. Quindi se noi abbiamo un verbo con parlare diventa parli, scrivere, scriva, partire, parta. Questo lo utilizziamo dando del lei, di usted. Quindi qui abbiamo degli esempi con parlare, signorina, parli lentamente, maestro, scriva il suo e-mail, dottore, parta alle sette. Quindi ricordiamo i-a-a. La forma negativa è molto semplice, come il noi e il voi, anche con il lei solo aggreghiamo il non, quindi aggregare non al verbo imperativo con lei. Signorina parli, signorina non parli. Professore scriva, professore non scriva. Architetto parta, architetto non parta. Come vedete è molto, molto semplice. È solo questione di praticare. Amare, ami. Vedere, professore, veda. Sentire, professore, senta. Ciao, alla prossima.